In meno di un mese e mezzo il destino di Francesco Renzetti si reintreccia con quello del Cesena. Il terzino sinistro forma con Antonio Balsano la miglior coppia laterale della cadetteria. Io sono contentissimo di essere qui. Ovviamente quando sono andato via le speranze erano altre, però non sempre le avventure vanno come uno vorrebbe. L'ultimo giorno c'è stata questa occasione e non me la sono fatta scappare. Erano uscite un paio di squadre, però con il direttore ci siamo sentiti, ci siamo messi d'accordo e è stata abbastanza svelta anche la trattativa. A Cesena non l'ho mai negato che sto bene, che è diventata come una seconda casa. La mia ragazza si è ambientata benissimo, quindi stiamo davvero tutti bene.